Il Glamour del Natale è una iniziativa che si sta svolgendo qui a Leporano presso il castello Muscettola. Il Glamour del Natale di Danilo Margherita, Glamour parrucchiere e Centro Selene di Elena Lotta, sfilata di moda, make-up, acconciature. Dunque una iniziativa che vede insieme queste attività, questa che è una vera e propria arte, con la solidarietà, con la beneficenza. Come si vive questa attesa sia per te e sia ovviamente per coloro le quali stai preparando? Diciamo che dietro tutto questo che al momento agli occhi di chi ci guarda è davvero molto bello, quello che posso garantire io personalmente e tutti i colleghi partecipanti, c'è un lavoro di un certo proprio spessore materiale, di tempo e soprattutto nello stesso tempo abbiamo deciso di creare tutto questo, di correre da una parte all'altra per devolvere questa serata, che è una serata di beneficenza, l'incasso al reparto pediatrico del Santissima Annunziata di Taranto, grazie alla partecipazione del dottor Peluso. I preparativi sono incominciati già a fine agosto per portarli a termine oggi con il raggiungimento dell'obiettivo. Insomma, i buoni presupposti ci sono, spero che realmente vada tutto bene. Come dicevo, una bellezza fisica e una bellezza morale interiore. Sì, sicuramente, perché il bello non è soltanto quello che realmente viene visto dagli occhi. Il bello è quello che dovrebbe prevalere del bello e quello che una persona ha dentro. Abbiamo voluto organizzare questa manifestazione con la collega del Centro Selene di Elena Lotta, proprio per coinvolgere il bello, l'estetica, ma prenderci cura di coloro che non pensano al bello, ma pensano appunto a se stessi, alla cura della propria persona. Grazie.